Debutto in terra a retina per il Love Film Festival di Perugia alla Casa delle Energie. Inizia l'avventura e inizia anche l'avventura ad Arezzo, quindi questi due giorni con un target molto giovanile, spazio alle nuove voci, attori che diventano registi, un film sul femminicidio, un anteprima nazionale e Federico Moccia. Ci sono tutti gli ingredienti per gettare le basi di un qualcosa. Il primo appuntamento con il Festival del Cinema Perugino è stato dedicato a tutti gli amanti del cortometraggio con l'assegnazione del grifone d'oro intitolato a Francesco Petrarca. Ad aggiudicarsi il primo premio l'attore e regista trapanese Marcello Mazzarella con L'Ombra delle Muciare. Questo è un film che ho voluto dedicare soprattutto alla figura del padre, come figura che riesce a tenere le tradizioni, a essere il padre forte, il padre che è strutturato e che è un solco dove i figli possano sentirsi sicuri nel loro cammino. Poi è un film dedicato agli imprenditori perché è un film realizzato con le sole forze diciamo di un imprenditore che ci ha dato qualche fondo e con tanto amore abbiamo fatto questo film quindi è veramente stato un atto di coraggio e di grande amore. Tre corti in gara ha anche So Close To Me del regista Aretino Daniele Bonarini. Credo che sia molto importante per Arezzo promuovere realtà come questa, ce ne sono troppe poche e il fatto che venga la Perugia credo che sia ancora meglio perché comunque consolida un percorso che è iniziato anni fa e che deve sicuramente svilupparsi.